Ciao a tutti ragazzi, qui Ron Bellicronzei. In questo breve video vi spiegherò come ottenere il biglietto da visita Heroica Duty o Fallen Heroes se avete il gioco in inglese. Il primo step sarà cliccare su questo link che vi lascerò in descrizione, entrare con l'account se non l'avete già fatto e premere Submit perché il codice ci sarà già in automatico. Nel mio caso l'ho già riscattato, adesso ve lo farò vedere in game come si presenta. Eccolo qua, a conferma che funziona e come vedete non mi ha perso nessun pallino verde che mi indica che c'è una roba nuova, però me l'ha messo direttamente lì nella caserma insieme agli altri. Vi ricordo inoltre che gestisco una pagina Facebook dove posto giochi gratis per tutte le piattaforme, più vari DLC e contenuti bonus come questo, quindi se anche a voi piacciono le robe gratis conviene farci un giro. In ogni caso il video è finito, ci si vede nel prossimo. Ciao a tutti!